Abbiamo approvato la lista dei consiglieri candidati, consiglieri regionali. Che votare PD significa fare un investimento per una regione migliore, ha detto il segretario regionale Renzo Liva, per uscire dal mondo delle chiacchiere e dei soldi buttati. Con Massimo Morettuzzo, il candidato alla guida della regione, i nostri candidati, ha detto, hanno il compito di smontare la mitologia del Fedriga, santificato dalle tv nazionali, ma che del fiuli Venezia Giulia a Chiosato non si è mai occupato. A Palma Nova l'assemblea regionale del partito ha approvato le liste dei candidati, già presentate nel capoluogo di regione a Trieste, dove si presentano Roberto Cosolini, Isabella De Liso, Sergio Persoglia, Laura Famulari, Francesco Russo, Sabrina Morena, Rosanna Pucci, Valentina Repini e Cinzia Schierani. In alto Friuli, Martina Andenna, Massimo Mentile e Gabriele Moser. A Gorizia, Laura Fasiolo, Davide Furlan, Lucia Giurista, Diego Moretti e Fabio Vezintin. E ancora a Pordenone, Andrea Carli, Chiara De Giao, Nicola Conficoni, Adriana Del Tedesco, Francesco Del Bianco, Valentina Francescon, Antonio Di Capua, Martina Locicero, Daniele Rosset, Monica Padovan, Giuseppe Toldo e Leonor Angela Venier. A Udine, Andrea Castiglione, Manuela Cerotti, Paolo Coppola, Maria Rosa Girardello, Francesco Martinez, Nadaia Achirai, Vincenzo Martinez, Ornella Perusin, Roberto Pascolat, Maria Grazia Santoro, Massimiliano Pozzo, Gilda Spollero, Alberto Soramella, Francesco Paolo Tomada e Tiziano Venturini. Sentendo la presentazione dei candidati, ha detto ancora il segretario regionale del PD Renzo Oliva, sono rinfrancato per le qualità individuali e la rappresentanza di territori e categorie. Con queste liste, ha detto, affronteremo la competizione con maggiore determinazione. La prevalenza di donne non è un caso, invece è chiusato a Trieste la segretaria Caterina Conti. L'abbiamo voluta fortemente perché la mancanza della doppia preferenza di genere rende la nostra regione fanellino di coda in Italia.